I riciclalberi, gli alberi di Natale più green di Taranto. Porta alle isole ecologiche le bottiglie di plastica trasparenti o di colore verde. Togli le etichette e aiutaci a creare i grandi alberi di Natale di Chimo Ambiente. Regaliamo alla città le feste più ecosostenibili di sempre. Grazie per la visione!